Il flash è difficile da usare perché ogni volta che scattiamo una fotografia parte un lampo e la scena cambia completamente rispetto a come la stavamo osservando. Questo è il motivo principale per cui molti fotografi, professionisti e amatori trovano complicato lavorare con questo dispositivo perché noi abbiamo una certa percezione della scena nel momento in cui scattiamo il lampo cambia completamente la scena. Nel video di oggi vi faccio vedere il metodo empirico più semplice per andare a esporre correttamente una scena con il flash. Per cui se hai appena acquistato il tuo primo flash o sei nei guai con un flash che hai già acquistato e magari non stai usando perché fai fatica a usarlo questo contenuto potrà essere fonte d'aiuto. Consiglio per questo motivo di seguire questo contenuto fino alla fine e anche di iscrivervi al canale perché usciranno altri episodi sul flash, sulla fotografia e non solo. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per le aziende. Utilizzo tanti tipi diversi di flash. Oggi vi faccio vedere un flash che è uno speedlight montato su una fotocamera mirrorless quindi in questo caso stiamo utilizzando un flash di Canon sulla R100. È un caso potrebbe essere qualsiasi altro tipo di combinazione. Quello che vi faccio vedere oggi vale tanto quanto. Parliamo di esposizione. Sapete benissimo che nel momento in cui stiamo osservando una scena la vediamo. Se voi foste qui davanti a me vedreste esattamente la stessa scena che c'è in camera perché questo è quello che succede veramente qui nella stanza perché sto utilizzando una luce continua. Quando si fanno video si usa una luce continua. Quando si fa fotografia si può usare una luce flash come questa che è una luce. Adesso accendo il flash e vi faccio vedere un lampo. È una luce che pulsa. È una luce che fa un battito ma poi scompare e quindi noi siamo in difficoltà perché non riusciamo a vedere a visualizzare che cosa farà quella luce. Per questo motivo molte persone trovano complicato utilizzare il flash e per questo motivo molte persone poi si rifugiano nel dire io scatto solo con luce naturale perché il flash non mi piace. La mia personale risposta e non solo mia è scatti con luce naturale perché non lo sai usare il flash. Se tu sapessi usare il flash useresti la tua bella luce naturale ma quando serve useresti anche il flash. Oggi andiamo a vedere un semplice per esporre una scena è un metodo empirico quindi io vi potrei dire di spendere 600 euro per comprarvi un esposimetro e sarebbe probabilmente la cosa migliore la cosa più professionale però come ce l'abbiamo fatta tutti a imparare a usare il flash senza esposimetro ce la potete fare benissimo anche voi e mi riferisco a quelli che non lo sanno già usare ovviamente. L'esposimetro è uno strumento che con un lampo di prova misura l'intensità della luce e quindi ci dice esattamente per essere esposti a zero quanto dobbiamo modificare la potenza del nostro flash. È uno strumento utile però è uno strumento costoso è uno strumento che occupa posto in borsa e io non sono qui oggi per dirvi di comprare compulsivamente cose bensì sono qui oggi per farvi vedere come vado a esporre una scena semplicissima. Noi qui abbiamo il nostro Henry Jones Junior che ci aiuta per lo shooting di oggi. Noi andremo a scattargli una fotografia prima a flash spento. Questa che vi faccio vedere è la fotografia a flash spento. Come potete immaginare si tratta di una fotografia scattata con dei tempi non proprio edificanti. Infatti sto scattando a un sesto di secondo chiaramente contesto ideale quindi si riesce ancora ancora a farla è un tempo che è già sbagliato con un tempo del genere io già dovrei introdurre un flash perché non sto riuscendo a farla la foto con i parametri che ho inserito. Ora per far fronte a questa mancanza di luce andiamo a inserire il nostro flash quindi lo vado ad accendere. Come potete vedere è nella configurazione standard quindi cobra punta direttamente sul soggetto. Per questo primo scatto che vi faccio vedere sto utilizzando il flash in etl quindi sto dicendo al mio flash calcolati tu l'esposizione non ne voglio sapere e il flash osserva la scena attraverso l'esposimetro della macchina vede che c'è poca luce e mi restituisce un lampo con la potenza corretta. Infatti la fotografia è esposta in maniera assolutamente corretta. Ora andiamo a vedere che cosa succede se io provo a esporre manualmente quindi esco dalla modalità etl e vado in modalità manuale sul mio flash. Che cosa succede? Io immetto un valore che per me è standard ovvero un sedicesimo. Io spesso parto da una potenza di un sedicesimo quando devo esporre una scena e non ho un esposimetro. Perché un sedicesimo? Perché è più o meno a metà. È più o meno metà della potenza totale del flash. Quindi con le stesse impostazioni vado a realizzare il mio scatto e come potete vedere è un pochino sovraesposto. Un pochino e non tantissimo perché le zone scure sono esposte correttamente ma l'incarnato del nostro Henry Jones è troppo chiaro quindi dobbiamo andare a diminuire la potenza. In questo secondo scatto in manuale che vi faccio vedere ho diminuito la potenza e sono andato a un trentaduesimo quindi ho dimezzato la potenza. Si potrebbe discutere sul fatto se sia troppo troppo poco. Secondo me va bene. Quindi in questo caso a me va bene così. Ovviamente io potevo andare a un trentaduesimo più un terzo di stop in questo modo gli ridavo un pochino di luce però in questo caso secondo me va bene così. Quindi vedete il procedimento è semplicissimo. Io ho una scena troppo buia aggiungo luce aggiungo il flash scatto di prova. La luce va bene sono in ettl a posto posso continuare così. La luce è troppa? Magari sono in manuale la luce troppa? La diminuisco senza nessunissimo problema. Si tratta semplicemente di agire su uno dei parametri che ora non sono più tre come sulla macchina fotografica. Ora sono quattro perché abbiamo anche la potenza del flash. Facciamo un altro esempio. A questo punto io vado a fare questo quindi non sto più scattando con la luce rivolta verso il mio soggetto ma la luce rivolta verso il soffitto. Se prima la mia luce doveva fare Henry Jones è a mezzo metro da me. Se prima la mia luce doveva fare mezzo metro ed era finita adesso la mia luce deve fare tre metri e tre metri. Quindi prevedibilmente dovrò quadruplicare la potenza o cose del genere. Infatti io vado a realizzare questo primo scatto che vi faccio vedere e vedete che la luce che dal mio flash va al soffitto e poi deve tornare giù sul mio soggetto è assolutamente insufficiente. È quasi come se non ci fosse con i parametri attualmente immessi. Che cosa facciamo allora? Io adesso vado a immettere un quarto di potenza sul mio flash e spero con questo di recuperare la luce che mi serve per realizzare lo scatto. Il risultato che ottengo è questo. Come potete vedere c'è ancora troppa poca luce. Allora che cosa faccio? Vado ad agire sui valori ISO. Sì perché quando noi lavoriamo col flash non lavoriamo solo sulla potenza del flash. Lavoriamo anche con la potenza del flash ma gli altri parametri rimangono pur sempre validi. Con una variabile ovvero noi dobbiamo ricordarci che quando lavoriamo col flash i tempi sono praticamente ininfluenti. Che cosa vuol dire questo? Quando io aumento i tempi sto lasciando il diaframma aperto più tempo e quindi potenzialmente entra più luce. Ma entra più luce ambiente però. La luce del lampo del flash non cambia con la variazione dei tempi. Quindi se io sto scattando a un centottantesimo di secondo non c'è abbastanza luce e il mio flash non mi dà abbastanza potenza. Vado a un sessantesimo di secondo. La potenza del mio flash non cambia. È invariata. L'emissione del mio flash è la stessa e siccome la luce è più veloce del mio otturatore l'esposizione sarà identica. Quindi io aumentando i tempi sto aumentando la luce ambiente non la luce del flash. Che cosa posso fare per avere più luce del flash nel mio scatto invece? Posso agire su ISO e diaframma perché ISO e diaframma sono valori che non tengono conto del tempo. Sono sempre così. Un diaframma è sempre aperto così. Un valore ISO è sempre ampio così. Quindi i tempi mi permettono di far entrare più luce ambiente mentre diaframma e valori ISO mi permettono di far entrare più flash, di leggere più lampo del flash. Quindi in questo caso se io avessi aumentato i tempi sulla mia scena non avrei avuto più luce dal flash ma avrei avuto più luce dell'ambiente che non è quello che voglio. Io in questo caso voglio più luce dalla luce che sto utilizzando per illuminare la mia scena per cui aumento gli ISO passo da ISO 100 a ISO 200. Il risultato è che l'esposizione può andarmi bene. magari non è idilliaca, magari non è fenomenale, però può andarmi bene ed è recuperabile in post. E soprattutto puntando il flash sul soffitto è ben diversa la cosa perché vedete che l'ombra è diversa, non abbiamo più quell'ombra sgradevole dietro al nostro soggetto, la luce è più diffusa, più morbida. Quindi abbiamo ottenuto un risultato assolutamente gestibile in post produzione e assolutamente gradevole alla vista. Questo secondo me è il metodo empirico per andare a esporre una scena col flash. Ovviamente se puntiamo il flash sul soggetto, una volta che abbiamo fatto l'esposizione, se manteniamo gli stessi parametri e la stessa distanza, il flash andrà sempre bene così. Se ci avviciniamo, ci allontaniamo, cambierà. Quindi dobbiamo tener conto di questa cosa. Se scattiamo a un metro, esponiamo così e va bene, poi se andiamo a tre metri, dobbiamo aumentare la potenza perché non sarà più la stessa esposizione. Allo stesso modo se stavamo scattando sul soffitto, se in una stanza il soffitto è alto due metri e facciamo l'esposizione così e va bene, poi andiamo in un'altra stanza e il soffitto è a quattro metri, nuovamente dovremo aumentare la potenza. Come l'aumentiamo? Facendo uno scatto di prova, ci rendiamo conto di quanto siamo sottoesposti e di conseguenza sappiamo di quanto aumentare la potenza del flash o di quanto modificare gli altri parametri in macchina. Possiamo modificare, a parer mio, possiamo modificare i valori ISO e i valori di diaframma perché così facciamo entrare più luce del nostro flash se andiamo ad aprire questi parametri. Viceversa, se siamo in un contesto dove, ne abbiamo già parlato nel video scorso sui flash, quindi andatevelo a recuperare, se vogliamo più luce ambiente facciamo il contrario. Questa è una cosa che succede raramente secondo me, eh? Concerti con luci particolari colorate, allora voglio più luce ambiente anche se ho dato una flashata di schiarita, allora faccio il contrario. Vado a chiudere magari ISO e diaframma per avere meno flash e vado ad aprire ad aumentare i tempi di posa fin quando è possibile. Ovviamente magari vado a un sessantesimo, non oltre perché sennò mi vengono poi delle cose mosse. Con un'impostazione del genere io riesco a far entrare più luce ambiente, quindi do una schiarita col flash ma riesco a far entrare più luce ambiente. Anche lì come faccio a esporre? Nello stesso modo. Scatto di prova, se il mio flash è troppo luminoso abbasso la potenza del flash, se le luci ambiente sono troppo tenui aumento i tempi di posa. Così in maniera empirica riusciamo a gestire una scena. Ovviamente le prime volte faremo fatica perché io adesso avete visto i parametri di sua memoria. Io faccio uno scatto di prova e poi una correzione e sono in bolla subito perché conosco la mia strumentazione, so dove si trova come esposizione, quindi se ho sbagliato, ok, è troppo chiara e troppo scura, so esattamente di quanto mi devo muovere per compensare. Questa è una cosa che viene con l'esperienza. L'esposimetro può aiutare, nel senso che l'esposimetro vi fa leggere da subito un valore che è corretto. Però io non sono tanto a favore dell'esposimetro. Per dirvela tutta, ne possiedo uno, un Sekonic vecchissimo, ma che non uso mai. Perché non lo uso mai? Perché raramente si espone a zero. Esistono dei casi in cui si vuole esporre esattamente a zero, ma per esempio se stiamo facendo un set beauty non siamo a zero, stiamo sovraesponendo un pochino. Se stiamo facendo una fotografia per una band non siamo a zero, stiamo sottoesponendo un pochino. Cioè non si è mai perfettamente a zero, per come la vedo io. È molto raro che si sia perfettamente a zero. Forse nella fotografia fashion si sta a zero, nella fotografia di interni si sta a zero. Quindi in certi casi sì, però non sempre. E quindi secondo me è importante imparare a vedere, a leggere la scena, a capire come sfruttare questo strumento anche senza avvalersi di uno strumento come l'esposimetro, che sì, può essere importante all'inizio, però secondo me e non solo, secondo me ci limita un po' sul lungo periodo, perché se esponiamo sempre a zero, avremo delle luci sempre un po' piattine. Amici, a questo punto come sempre, io vi lascio spazio nei commenti, fatemi sapere se, come spero, questo tutorial vi è stato utile, se avete imparato qualcosina di più su come utilizzare questo strumento. Secondo me è uno strumento che vale la pena imparare a usare, perché una volta che abbiamo capito come usarlo, è un parametro in più. Abbiamo tre parametri, sono appena diventati quattro. A una volta che abbiamo imparato come implementarlo nel nostro flusso di lavoro ci dà una grossa mano, sia a illuminare dove non c'è luce, sia a creare un effetto dove di luce ce n'è già, ma noi vogliamo dare una schiarita per un qualsiasi altro motivo. Vi consiglio di recuperare i video che ho già fatto uscire su questa stessa serie sui flash, perché ci sono delle cose importanti che qui ho taciuto, visto che le avevo già dette prima. Quindi, se state vedendo questo video per primo, andatevi a recuperare anche i precedenti, perché sicuramente ci sono altre cose degne di nota anche in quegli episodi. Vi chiedo, come sempre, fatemi sapere se questo argomento vi è interessato, e quindi se volete che io prosegua con questa serie sul flash, ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale così non vi perdete le prossime puntate e le mie risposte in forma di sorso verticale alle vostre domande più interessanti. È stato, come sempre, un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.